C'è qualcuno che vuole andargli dietro? No, hai detto che la guida la fai più oggi, quindi... Sono cazzi miei! Sai da quanto tempo che non me ne dà più? Quello cammina! Ora che ti dai i guanti va bene, ma che ti devi anche il casco per pisciare è grave! Vedi? Vedi con il casco va bene! Vedi? 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 Lo sapevo che ti puoi dare qualcosa di più ma... Be' l'anno! Poi quanto sia tempo... ma come è possibile che ci hai messo tanta aria? troppo, troppo di tutto ma... 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 si ma ho capito ma è impossibile c'è la fisica della fisica ma c'è la capitale che ha fatto c'è la dinamica dei fluidi dei ravioli ho capito ma secondo me è andato fuori a seminare il sangue c'è ma allora l'ammortizzatore che avrà la maglietta e i guanti sono i guanti che portano il suo carrecchio i guanti ve li fanno il carrecchio io non ho tanto i guanti fanno tanto non ho tanto le due 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 le due